Con una nota inviata alla stampa, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caltanissetta esprime solidarietà alla ginecologa in servizio all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, aggredita nei giorni scorsi dai familiari di una puerpera a seguito della morte del bambino. A nome personale del Consiglio Direttivo condanniamo questo grave episodio, leggiamo nel documento, manifestando profonda preoccupazione per le inaccettabili violenze che periodicamente subisce il personale delle strutture ospedaliere nell'esercizio delle proprie funzioni, in particolare nel presidio di Gela in cui recentemente altri colleghi sono stati vittime di aggressioni, scrive il presidente dell'Ordine dei Medici Giovanni Di Polito. L'inchiesta dell'autorità giudiziaria nei confronti della quale riponiamo massima fiducia servirà a fare chiarezza sulla tragica morte del neonato. Più volte abbiamo segnalato i rischi per l'incolumità dei Medici e degli altri operatori sanitari, ai quali va garantita la sicurezza necessaria per consentire un efficiente svolgimento del loro lavoro, volto esclusivamente alla cura e all'ascolto dei pazienti, conclude il presidente dell'Ordine dei Medici.